massimiliano ma da cosa dipende questo sali e scendi del franco euro guarda tu devi prendere devi pensare che il cambio tra due valute è come se fosse un termometro che misura proprio diciamo gli equilibri tra due nazioni e nello specifico qui abbiamo il franco svizzero svizzera e euro europa e sostanzialmente in ogni momento è come se misurasse la temperatura questo cambio dell'economia e di tutte diciamo le relazioni internazionali che abbiamo tra questi tra questo stato la svizzera e tra quest'unione di stati che l'europa quindi è proprio come se fosse un termometro dell'economia e quindi quando è la svizzera che va un po in vantaggio sull'europa evidentemente il franco svizzero si apprezza e viceversa è sempre un equilibrio molto labile perché chiaramente è convenienza di tutte le nazioni avere una valuta diciamo un po più debole perché chiaramente le esportazioni per esempio se si ha una valuta debole vengono beneficiano e di conseguenza si muove sempre proprio per questo motivo perché cambiano le condizioni economiche degli stati che sono coinvolti in questo gioco tra virgolette Vi servirà l'amore già andavo ci att nerdesto che siamo potenti rastevi kind